Parliamo di teatro e non solo, parliamo con Alessandro Audino di Ghost. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E in collegamento con noi Lara Panighetti, regista anch'essa e anche lei di Ghost. Buongiorno Lara, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, buongiorno. Parliamo di uno spettacolo che andrà in scena proprio questa settimana a Ghost appunto, al Teatro Don Bosco, a Bollate, Madri Interrotte. Allora, non per cavalleria, ma perché è la regista, facciamo parlare giustamente Lara, no? Giusto Alessandro? Assolutamente sì. Quella roba di per cavalleria, no, 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 qui è proprio per meriti sul campo, no? Assolutamente. Giustamente. Allora Lara, tu sei la regista appunto di questo spettacolo, Madri Interrotte, di cosa stiamo parlando? Allora, parliamo di un tema molto delicato, che è quello dell'infanticidio. Ma in realtà lo facciamo per parlare di un'altra tematica che a me stava molto a cuore, che è quella della maternità, di come le donne adesso si trovano un po' in difficoltà a gestire questo ruolo materno insieme a diversi altri ruoli che si trovano ad avere e che vogliono avere giustamente. E che tipo di spettacolo dobbiamo aspettarci? È uno spettacolo che mischia insieme due aspetti. Da una parte appunto quello, l'aspetto un po' più tragico della vicenda e quindi delle sofferenze di queste donne, ma allo stesso tempo la parte un po' più dolce che è quella del ritrovarsi insieme da parte di queste donne, quindi di condividere gioie e dolore. Quindi è uno spettacolo che alterna scene in cui appunto si riflette, scene in cui si litiga, scene in cui si ride e si condividono delle cose. Sono storie reali o ti sei ispirata alle storie reali? Come sei arrivata appunto alla realizzazione di questo spettacolo, la scrittura anche? Da chi è scritto lo spettacolo? Da Lara. Da Lara. Ok, dimmi, dimmi. Sì, sì. Mi sono ispirata a un testo che ho trovato mentre stavo facendo delle ricerche su altre tematiche, la classica Medea. E questo testo invece parlava di questa tematica, di questa scrittrice e quando l'ho letto mi sono innamorata. Poi io ovviamente l'ho modificato, ho fatto delle mie riflessioni e ci ho introdotto dei miei aspetti. Però questo testo già presentava una traccia molto interessante perché parlava di queste donne all'interno di questo carcere che condividevano appunto queste loro problematiche. Ecco, allora, Alessandro, questo spettacolo nasce proprio dentro a Ghost, no? Sì. Ecco, che cos'è Ghost e come si potrebbe definire Ghost appunto? Allora, Ghost… Ricordiamo anche cos'è l'acronimo. Sì, Ghost è un acronimo appunto, quindi non è fantasma in inglese, non c'è l'H ma è G-O-S-T e vuol dire Gruppo Oratorio Spettacoli Teatrali. Ok. Questa sigla è perché Gruppo Oratorio, perché noi nasciamo nell'oratorio di Cascina del Sole ma ci piace poi fare anche dei giochi di parole e quindi come teatranti siamo anche degli oratori. Eh beh, giusto, 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 giusto. Quindi ci piace molto questa doppia valenza del nostro acronimo. Nasciamo come associazione culturale, siamo nati nel 2005, l'anno prossimo facciamo 20 anni. Sì, non sembra, ma sono già 20 anni e vabbè, poi ci siamo trasformati in un APS con la riforma del terzo settore. Cose tecniche che fanno solo non dormire i presidenti, i tesorieri e chi deve andare all'UNZ a registrare, cose che non vi stiamo neanche a spiegare. No, esatto, esatto. E la mission della nostra associazione è diffondere la cultura tramite l'arte del teatro. Insomma, appunto, mi sembra che funzioni, ma sono 20 anni che lo fate. Sono 20 anni tra mille fatiche ma anche tante soddisfazioni. Però, quello che mi sarebbe da dire, era più comodo, anzi, gioco con il vostro nome, fare il classico teatro dell'oratorio. Voi prendevate, una volta Gesù scasso per star, l'altra volta prendevate sette spose per sette fratelli, li mettevi su, facevi felici tutti e via. E invece no. No, invece no, perché diciamo che quando siamo nati 20 anni fa a Bollate, praticamente di teatro non c'era nulla. Io ricordo che il comune organizzava l'autobus che ti portava a vedere gli spettacoli teatrali a Milano. Complimenti al comune, comunque aveva trovato la soluzione interessante, però è sconvolgente effettivamente. Esatto, esatto. E quindi noi ci siamo dati questa mission di portare l'arte teatrale nel nostro comune, che comunque non è piccolo, sono quasi 40.000 abitanti. E infatti, voi siete poi in una frazione pubblica, Scena del Sole. Però insomma, vabbè, al massimo adesso cosa fai? Il comune vi ha organizzato il pulmino che porta dal centro di Bollate alla Crescina? No, però io lo chiederemo. È vero, hai ragione, hai ragione. Ma chiedere al sindaco, risparmio, meno chilometri, scusa. No, in realtà devo dire, devo essere sincero, indipendentemente dall'amministrazione che in questi 20 anni si sono alternate. E me ne sono cambiate un po', infatti. Sì, diciamo che noi ci siamo sempre, le amministrazioni cambiano, a parte gli scherzi. Comunque ci hanno sempre supportato in questo, quindi diciamo che tutte le nostre attività hanno praticamente in automatico il patricinio del comune, perché comunque garantiamo una qualità e il comune, devo dire, che in questo ce lo riconosce. Eh, infatti. Lara, questo spettacolo appunto, diciamo, nasce proprio all'interno di Ghost e non è la prima volta che va in scena. È già successo appunto che è andato in scena all'interno di Ghost. Come aveva risposto il pubblico e appunto, immagino bene, visto che insomma se lo riportate. Sì, allora, io sono stata molto contenta perché il pubblico ha risposto. Io ero molto preoccupata perché la tematica era importante e delicata e quindi la reazione del pubblico potrebbe, poteva essere diversa. Invece molti mi hanno detto che erano, che erano rimasti affascinati dal fatto che si aspettavano uno spettacolo impegnativo e difficile, che lo è stato, ma che comunque l'hanno affrontato in maniera, non dico leggera perché è impossibile, però ha partecipata e quindi questa cosa ci ha spinto a dire, beh, bisogna anche rifarlo. Tanti che molte persone mi hanno detto, se lo sapevo, lo consigliavo a qualcuno e quindi vediamo se l'hanno consigliato. Ecco, ti ricordi quelli lì che ti hanno detto così? Vali a riprendere giovedì. Chi è portato questa sera? Ma, no, no, appunto, poi è molto interessante capire che, insomma, sono tematiche. E mi è da dire che a volte facciamo un po' più, passatemi il termine, lo facciamo più scemo di quanto è il nostro pubblico in realtà. Cioè abbiamo paura a volte noi, no? Di chissà se, chissà come, invece anzi, poi ti trovi spiazzato da... Assolutamente sì, perché... Anzi, io trovo che il teatro in realtà è un modo, cioè, esorcizza alcune cose, nel senso che quando sei lì è diverso, perché sei lì, sei presente, non ci sono i tuoi fantasmi nella mente di quello che puoi pensare. Quindi è molto più partecipativo. Infatti giovedì faremo anche una riflessione insieme al pubblico, cioè dopo il nostro obiettivo sarebbe di chiedere al pubblico di fermarsi e fare un dibattito con me e anche verrà una psicologa per parlare di questo. Dici, mi stanno sul pubblico invece? Sì, che oggi c'è questa frase che noi sentiamo spesso quando organizziamo questo tipo di spettacoli e ma il pubblico si vuole divertire. Non è assolutamente vero. Il pubblico si vuole anche divertire, ma vuole anche pensare, vuole anche farsi delle domande, perché poi noi non diamo mai nei nostri spettacoli soluzioni, ovviamente, anche perché poi su queste tematiche sono così complesse, ma apriamo una finestra. E a quel punto stimoliamo il pubblico a fare un ragionamento. Molto interessante. Per forza bisogna divertirsi sempre. Il pubblico vuole divertire. Sì, va di cui si vuole divertire. Il pubblico vuole ragionare e viene negli altri posti, quindi benvenga. Andiamo invece con un po' di musica, anche noi, perché il nostro pubblico vuole anche ascoltare musica e vuole anche sapere cosa succede di bello nella città di Milano e nel suo internet. Quindi, appunto, giovedì sera, il 23 maggio, al Teatro Don Bosco di Bollate, con l'organizzazione di Ghost, lo spettacolo Madri Interrotte, alle 21, appunto, al Teatro Don Bosco. Rimanete qui con noi, però. Rimanete anche voi, Lara e Alessandro, perché, appunto, adesso stiamo con un po' di musica e poi ritorniamo ancora a parlare, perché io sono molto curioso anche di capire questa cosa, che Ghost è un'associazione. È fatta di volontari. Cioè, questa parola che ultimamente, oddio, chissà cosa succederà. Beh, lo chiediamo, appunto, ai protagonisti di questa storia. Nemo! Nemo con The Code, il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 dalla Svizzera. Anzi, stiamo chiacchierando, appunto, di musica qui con Alessandro Audino. In collegamento con noi, Lara Panighetti, che ci stanno raccontando dello spettacolo Madri Interrotte, che andrà in scena, appunto, il 23 maggio, giovedì sera, alle 21, al Teatro Don Bosco. Avete sentito sotto un uccellino? Ma, Lara, dove sei in questo momento? In questo momento bucolico, così... Cioè, l'abbiamo sentito benissimo, l'abbiamo sentito, Alessandro. Sono fuori dal mio lavoro, perché io lavoro al nido. Ma il nido di uccellini? Cioè, tu lavori in un nido di uccellini? Sì, io lavoro in un nido di uccellini. Ah, ecco, ok, no, no, ok. Li curo tutto il giorno. Giusto, Lara, anzi, ci dai l'assessi, giusto, perché, appunto, Lara, certo, è fuori dal suo lavoro. Che non è, ahimè, mi spiace per Lara, il Teatro Carcano in cui sta andando in scena un altro spettacolo suo, ma è, ma molto bene, anche contenta di fare questo lavoro, un asilo nido. Cioè, tu fai l'insegnante, si dice insegnante anche in quel caso, si immagina, ok. L'educatrice, scusa, scusa, educatrice. Che fatica, però. L'elementare si chiamano, come è, squadre di infanzia. Le medie, non sono più medie, ma sono secondarie di primo grado. E non ci sono anche più le maestre, ma gli educatori. Mamma mia, che fatica. Comunque, no, perché, diciamo che, fatto molto bene, ma quello del teatro è vostro secondo lavoro, ma neanche forse un secondo lavoro. È la grossa passione che donate ai cittadini. Sì, è una nostra passione. Noi, come compagnia, ci configuriamo come compagnia amatoriale. Ok. E, tornando ai giochi di parole, non perché non siamo professionisti, ma perché amiamo il teatro. Siamo amatori del teatro. Infatti, compagnia amante proprio. Esatto, esatto. Quindi, in realtà, per tutti noi che gravitiamo intorno a Ghost, non è il nostro lavoro, è un hobby. Molto impegnativo. Bravo, Alessandro. Perché questo è interessante. Cioè, quando diciamo compagnia amatoriale, uno pensa, ecco, al solito teatro dell'oratorio. Esatto. No, molto meglio. È il meglio teatro dell'oratorio. Non so come dire. No, è vero. È vero, è vero. Cioè, è quello, nel senso che, anzi, a volte viene da dire, è più difficile per voi che per le compagnie professionistiche. Perché, appunto, voi avete il tempo risigato. Dovete trovare... La pagnotta a casa la si porta con un altro lavoro. Esatto. Nonostante questo, nessuno fa un passo indietro, perché avete voglia di farlo e continuate, anzi. Non percepite una lira. Ma non è tanto, poi, appunto, non è solo quello. Cioè, quindi, anche tenere in piedi il teatro e tutto non è facile, però, insomma, ce la fate e ce la fate da vent'anni. Sì, 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 è vero. Non è sempre semplice, perché poi, in realtà, anche se è un hobby e un'associazione, in realtà ti scontri con delle cose che sono, prettamente, dal mio punto di vista, come se fosse un'azienda. Cioè, tu devi tenere un bilancio, devi far quadrare i conti. E, ovviamente, a parte il nostro tempo, per fare uno spettacolo ci vogliono anche dei denari, che quindi, in qualche modo, devi riuscire a recuperare. Quindi, noi assolutamente non percepiamo nulla, anzi, diciamo sempre, sicuramente mettiamo del tempo, magari a volte mettiamo anche dei soldi nostri. Però poi, quando hai la soddisfazione di fare una cosa che ti piace a te, prima di tutto, perché io penso che se non mi piacesse, andrei in mountain bike, ad esempio, no? Che è un'altra hobby che mi piace fare, andare in bicicletta, no? E poi hai comunque un riscontro del pubblico che ti viene a vedere, non tanto perché ti dice che è bravo, ma perché ti si avvicina e ti dice, cavolo, mi hai fatto pensare. Tuttosto che, a volte, i nostri spettacoli sono anche tratti da opere che magari tutti noi abbiamo conosciuto dai tempi di scuola, che abbiamo odiato a scuola, e che da allora non abbiamo più preso in mano e quando poi te lo ritrovi a teatro, magari, tra virgolette, mixato in qualche nostro spettacolo, dici, ah, caspita, mi avete fatto ricordare i promessi sposi. È vero, è vero, è vero. Insomma, questo è interessante quello che dicevi prima, cioè, amatoriale non vuol dire meno, non vuol dire fatto male, ma vuol dire, anzi, spesso diventieri fatto con tutto quell'amore che c'è verso il teatro, verso poi, appunto, l'amatorialità forse andrebbe un po' riscoperta e fatta capire anche magari a chi fa le regole che, insomma, a volte magari bisogna anche capire, perché immagino, io non voglio immaginare le regole che avete per gestire il teatro e tenere in piedi il teatro, perché non ne voglio, non lo voglio neanche immaginare che non saranno le stesse della scala, ma non credo che siano molto, molto meno di quelle dell'Arcimboldi. Non sono molto diverse. Infatti, immagino, ma qui c'è un altro programma in cui ne parliamo, Focus Periferia, e poi semmai un giorno ne parleremo anche con voi, anzi, siete invitati. Ancora piccola pausa, ancora piccola canzone, poi torniamo ancora qui a parlare ancora di teatro, ricordando, appunto, l'appuntamento di giovedì sera al Teatro Don Bosco di Bollate. Andiamo avanti con la musica, perché adesso è il momento di un salto nel passato, sì, con gli Ha Ha Take On Me 1985. Ed Sheeran con Celestial, come Celestiali sono gli uccellini che sentiamo arrivare dal nostro collegamento con Lara Panighetti, che, sentite che roba, ma in che zona sei del mondo? Lo faccio capire un attimo. Bollate? A Cormano. Cioè, a Cormano, ragazzi, la notizia è questa di oggi, che a Cormano suonano, non so che, l'usignolo cosa fa? Cinguetta. Sì, cinguetta. Cinguetta l'usignolo. Canta, decanta l'usignolo. Ok, benissimo. Grazie Lara, anche già solo per questo, grazie. Ma grazie invece a Lara e Alessandro per quello che succederà, appunto, giovedì sera. Chi di voi vuole fare un recap di cosa succederà giovedì sera? Vado io, vai tu Lara. Vado io, va bene. Allora, vi aspettiamo giovedì sera, il 23 di maggio, alle ore 21, al Teatro Don Bosco di Bollate, frazione Cascina del Sole, con lo spettacolo Madri Interrotte, di Lara Panighetti, e con la sua regia. Ci tengo a citare anche l'Associazione Universo Donna, di Arese, perché con noi gestirà il dibattito che tenteremo di fare subito dopo lo spettacolo, per chiacchierare su quello che è il pubblico, quindi col pubblico, su quello che hanno appena visto messo in scena, insomma. Interessante il tema dello spettacolo, interessante anche secondo me andare a conoscere nuovi teatri, che insomma è sempre bello andare a... nuovi vent'anni che sono qua, nel senso che magari molti di voi vanno sempre ai soliti, quelli comodi, quelli comodi nella nostra testa, perché insomma sono quelli che leggiamo dappertutto, poi dopo magari ti attraversi la città per andarci, e magari tu sei abbaranzato, e non sai che al comune di fianco a Bollate c'è invece un teatro che fa grandi cose, e insomma non ci sei mai andato. Quindi è importante anche questo, è importante conoscere il territorio e riuscire a viverlo al meglio. E ancora di più è vero come dire che il pubblico vuole divertirsi, ma non solo, ma non è solo. Che poi non è che andate lì e uscite dilagnati dalla noia. Assolutamente no. Infatti è uno spettacolo certamente impegnativo, ma assolutamente non noioso, non triste. Ci sono delle scene in cui si ride, perché comunque queste quattro donne che sono in carcere, facciamo vedere uno spaccato di vita. E succede di tutto in questo carcere, a volte litigano, a volte ridono, e tra virgolette si divertono, nonostante la situazione in cui si trovano. Perché comunque altrimenti anche per loro sarebbe impossibile portare avanti la loro vita. L'area difficile è scrivere mischiando appunto questi registri, cioè tu non puoi solamente far piangere, ma non puoi far solamente ridere, non puoi fare introspezioni, cioè è tutta una montagna russa. È difficile mischiare questi registri? Ma per me non lo è stato. Ah, bene. Nel senso che perché me lo sono messo come obiettivo, e quindi proprio avevo nella mia testa di fare una scena in un modo e una scena in un altro. Ah, ok. E poi anche per come sono fatta io, nel senso che credo che le cose importanti e complicate hanno sempre un lato sia triste ma anche felice. Quindi, anzi, a volte nel ridere trovi il piangere e viceversa. Ecco, vedi. È un po' come i whatsapp che mi arrivano a me. Quindi ti faccio questa domanda da chi era interessato. Perché appunto ci sono gli uzzignoli che cinguettano dietro a Lara Panighetti e al 33178-53555 ci scrive il buon Nello e poi io mi glisso, nel senso che io a quel punto proprio spengo la radio dopo questo messaggio, che scrive anche Gigliola Cinguetta. Bene. Grazie Lara per aver riso tu. Nel senso perché qui in studio è sceso il gelo, si sono rotte due lampade e un microfono ha deciso di non funzionare più. Grazie Nello, come sempre, per questi momenti. Per questo che ti chiedevo come si fa. Cioè, nel mentre che tu mi parlavi della serietà del progetto, di quale a me arriva un whatsapp del genere, come fai? Cioè, è impossibile, capite? Capite che è veramente complicato. Tratto Don Bosco. Bollate. Frazione Cascina del Sole. Giovedì sera, 23 maggio, alle 21. Madri interrotte. Lara, motivo per venire e non perdersi questa replica del tuo show, del tuo spettacolo. Scusate, show radiofonico. Perché io credo che il bello del teatro è che ti porti sempre a casa qualcosa, che ti rimane dentro e secondo me questo spettacolo ti lascia qualcosa da portare a casa. Bene. E un motivo invece per seguirvi sempre. Ghost, Alessandro. Allora, secondo me perché noi facciamo molte attività e le facciamo in modo sincero. Uh, bello, non è male. Non è male, non è male. Daccelo le coordinate per seguirvi. Allora, la nostra sede è al Teatro Don Bosco, quindi in via Cesare Battisti, 14, a Bollate, frazione Cascina del Sole. Oltre a organizzare questa rassegna teatrale che si chiama Venite a Trovarci, perché questo spettacolo è inserito in questa rassegna teatrale dell'ultimo appuntamento della stagione, poi riprenderemo a ottobre, stiamo già organizzando la nuova stagione, facciamo anche corsi di teatro. Ed è un'attività che è quella che ci permette di vivere, per fortuna. I nostri corsi sono rivolti a veramente tutte le fasce di età, quindi dai bambini dai sei anni fino ai diversamente bambini di 99. Ah, bene, bene. Ovviamente suddivisi per fasce di età, livelli, perché ovviamente chi fa già teatro ha un livello più avanzato rispetto a chi si approccia per la prima volta. e il motivo per venire a fare teatro da noi non è diventare l'attore di Hollywood, ma semplicemente conoscersi e conoscere. E allora conosceteli anche voi andando appunto al Teatro Bombosco di Bollate giovedì sera, 23 maggio. Grazie mille Alessandro. Grazie a voi per averci ospitato. Grazie Lara. Rimani lì però, perché sei in un quadro che bellissimo di 5T che ti cerchiano. Grazie mille davvero. Grazie ancora al Teatro Bombosco Ghost Bollate. A voi, grazie mille.